Da questo momento in poi, cioè dal dodicesimo minuto della ripresa. Cambiano un po' le caratteristiche ma non le posizioni perché Modesto è molto intransigente in questo, nel senso che... Canestrelli, pass, è scattato Carbò, viene incontro, Mulattieri, prende il primo calcio di Bologna. Carbò, colpo di testa per lo scatto dello stesso Mulattieri. Da quella parte arriva la chiusura di Cistana, palla dentro, interessante per Carbò. Non arriva in tempo l'attaccante della Sierra Leone. Adesso il proprio portiere di intervenire. Bertagnoli è un giocatore che si vede poco ma è fondamentale per dare equilibrio. Lui e Vandeloi sono giocatori che tengono incollata, compatta, corta la squadra. In rigore del Crotone ci sono anche i centimetri di Moreo. L'anno scorso ad Empoli giocava da trequartista. E aveva giocato in ebbi. È un lusso avere uno come palazzo. Palla dentro, il colpo di testa vincente! Ed il gol del raddoppio del... ...per profondità di organico. Ma questa è una squadra completa secondo me, con un allenatore che conosce bene la categoria e ha saputo dare un'identità precisa. È un allenatore carismatico e quindi anche il Crotone è la squadra che fino adesso ha fatto meno cambi in questi primi turni di campionato. Il tacco di Maric per Mulattieri in area di rigore! Eccolo! Il gol di Mulattieri che riapre la partita! Dalla C2, ex C2, alla C1, dalla C alla B, dalla B alla A. Sì, non dimentichiamo che nonostante una retrocessione ha venduto Simi e Messias, due giocatori, due attaccanti in Serie A. Va come vorrebbe. Di fatto è un 3-4-3 con un grande Maric che fa tantissime cose. Viene anche dentro a giocare, libera Mogos sulla destra. Come in questo caso, per ora le sta preparando. Brescia che rimane, Guardingo dentro la sua metà campo. Lancio davanti verso Mulattieri, il suo controllo. Maric aspetta l'arrivo a destra di Mogos. Eccolo il coron cross, dentro l'area di rigore. Sala con il destro, palla a Murata, palla che rimane lì! È il gol del Crotone, il gol del 2. Poi recupero alle riga Monti. Gran bella partita, davvero. Tra Brescia e Crotone. Canestrelli Maric. Pardon, Mulattieri Maric. Ha fatto sul primo palo, ma era troppo defilato e non ha trovato neanche lo specchio della porta. La reazione di Inzaghi è assolutamente emblematica. Mulattieri. L'appoggio per Vulic, che tira da lontanissimo, provando a sorprendere.